Siamo con Coach Boninfante, dopo il nono successo consecutivo, una grande iniezione di fiducia, una squadra che sembra trovare sempre le risorse giuste anche nei momenti di difficoltà, è così Dante? Sì, oggi hanno fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, sono stati molto attenti, oggi hanno eseguito la lettera, tutta la preparazione, fatto sta che una squadra molto brava a muro come Belluno oggi ce ne ha fatto uno solo, quindi i nostri attaccanti, i nostri ricevitori tutti molto molto bravi, questi ragazzi hanno espresso un bel gioco oggi, ci hanno fatto divertire e soprattutto si sono meritati la vittoria, hanno lavorato tanto, hanno fatto due allenamenti il 24, un allenamento il 25, so che non tutte le squadre hanno lavorato il 25, invece i ragazzi sono venuti in palestra, si sono impegnati anche la mattina di Natale, quindi gli avevo detto che dovevano giocare per questo, per essere ricompensati dei sacrifici che stanno facendo. E i risultati poi si vedono sul campo, ti chiedo un bilancio telegrafico su questo girone d'andata, rispecchia le tue aspettative, è più alto rispetto alle aspettative iniziali? Io non guardo, la mia valutazione non guarda la classifica, io vedo come hanno lavorato in questo giro d'andata, come sono cresciuti e il gioco che riescono a esprimere, quindi sono sicuramente soddisfatto perché il lavoro in palestra è sempre stato fatto con dedizione, con impegno alla ricerca dei miglioramenti, quindi questa è la cosa che volevo dai ragazzi e la stanno eseguendo perfettamente, quindi sicuramente per me è un giro d'andata positivo. Grazie Dante e ancora congratulazioni! Grazie a voi, ciao!